E' stato un matrimonio decisamente inaspettato, meglio un imprevisto quello che si è verificato di recente a Calcun, in Messico. Lo sposo in pratica avrebbe investito una delle damigelle, stava in particolare guidando una golf car, a bordo c'era la sposetta, però ha perso il controllo del veicolo. L'auto infatti non si è fermata, ha colpito una delle invitate, la vittima col vestito rosso è volata in aria e tutti ovviamente sono rimasti scioccati. Il video è stato caricato su TikTok da parte di ads-23, questo è il nome di questo personaggio, il quale video è diventato virale sul web. Il firmware è stato rimosso dall'account, però è diventato ancora, ripeto, virale in diversi social network e non è passato di certo inosservato. Ovviamente, ripeto ragazzi, è un video che secondo me può piacere o non piacere, ma sta di fatto che in fin dei conti riguarda un fatto vero, un fatto reale, un fatto autentico che purtroppo si è verificato. Nulla da fare, nulla da dire. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi utenti di YouTube. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, un narrato italiano. Commentate, datevi le vostre opinioni, ci tengono ad averle, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a voi.